Record di ascolti e scena le stelle per il Festival di Sanremo, anche se secondo il nostro sondaggio molti catanesi non avrebbero seguito la chermesse condotta da Carlo Conti. Chissà, forse fa sempre moda dire di non seguire il Festival, anche se alla fine lo si guarda e come. Intanto alle falde dell'Etna si fa il tifo per il catanese Lorenzo Fragola e per Arisa, nomi caldissimi per aggiudicarsi questa 66esima edizione del Festival di Sanremo. Non ne ho idea, noi siamo ragusani e ti chiamo per i ragusani. Giovanni Caccamo e Deborah Jurato. Anche Lorenzo Fragola è bravo. Una domanda, o una Arisa oppure un Lorenzo Fragola, anche se comunque potrebbe essere di parte, non lo è, perché sono le canzoni più orecchiabili che a mio parere ci sono in questo Festival. Per me quest'anno saremmo stata una delusione un po'.